Da tipo di legno al ferro sono stati ritrovati simili anche a tipo di dadi quadrati a quello che potevano essere il tempo dei Brunelleschi o di Leonardo. Sì, provando e controllando e ripetendo anche certe soluzioni troviamo che effettivamente molti dei modelli di Leonardo che sembravano che non potessero funzionare invece in effetti funzionavano, le sue intuizioni erano all'avanguardia già al suo tempo. Il tuo pensiero è ispirazione? Quando tu fai un disegno di Leonardo? Ma io no, non ci ho parole altre ringraziate. Per tante e più tante cose, anche cose difficilissime, anche lo spirito stesso della persona bisogna conoscere veramente come posso vivere. Veramente vicino a noi e avere sempre quella buona volontà di lavorare, di studiare. Leonardo d'Otabinchi Leonardo d'Otabinchi Leonardo d'Otabinchi Leonardo d'Otabinchi Anche se a quei tempi era ritenuto una follia quella di volare e lui l'ha cercato di portare avanti il progetto ad ogni costo, fino anche quasi a farsi deridere dagli altri che sapevano che stava facendo esperimenti del genere. Lui ha continuato con un'enorme fede a disegnare, a disegnare macchine volanti, deltaplani che effettivamente dopo 500 anni hanno volato. E questo secondo me, questa sua fede e volontà che quella cosa funzionasse, secondo me è quella che si può dare proprio di definizione di genere, una personaggio del genere. D'Otabinchi D'Otabinchi Leonardo d'Otabinchi meccanica, sull'ingegneria e tutto. Si segnava tutti questi appunti e aveva tutti, quindi un'infinità di taccuini dove raggruppava tutte queste sue annotazioni, appunti, che dopo via via li trasferiva in pagine grandi, di quegli appunti più importanti. La sua ricetta è la sua ricetta. Leonardo da Vinci 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 Leonardo da Vinci